Io non c'è toglia tanto, io manco sto al Parlamento, sono materie che non conosco zero, che non mi riguarda. Però aumentare lo stipendio dei parlamentari è fuori discussione. Secondo me sì, è fuori discussione, invece quello che sarebbe utile fare è fare come fanno nell'Unione Europea, cioè che molte delle spese, tipo gli assistenti, eccetera, vengono pagate direttamente dal Parlamento in modo da avere la maggiore trasparenza possibile.